Come ritorno mediatico riguardo queste Olimpiadi che è stata ancora più innovativa di Pechino, diciamo che è un'ottima impressione, un ottimo modo di poter divulgare il proprio risultato, il proprio pensiero e quindi sì, io sono su Facebook, ho il mio profilo, anche il mio fan club e lì ho condiviso i momenti di gioia, i momenti di tensione che mi hanno portato a raggiungere questo risultato con la medaglia di argento qui a Londra.